Il primo numero dell'anno 2016 della rubrica presupposti di Dr. Ross non trattiamo per una volta tematiche di natura fiscale, approfondiamo però un tema che è altrettanto di stretta attualità. Rispondiamo fondamentalmente alla domanda che spesso ci viene posta nei nostri studi sulla convenienza o meno nel convenzionarsi con il terzo pagante. Il tutto fondamentalmente parte da un'analisi e una distinzione tra quello che è la convenzione diretta rispetto alla convenzione indiretta con il terzo pagante. Dopodiché abbiamo condotto una ricerca di mercato dalla quale sono emerse, in base proprio all'esperienza operativa di vari odontoiatri che sono già stati convenzionati o di soggetti che un tempo erano convenzionati e ora non lo sono più, dicevamo una serie di elementi concreti che ci possono permettere di andare a focalizzare quelli che possono essere i punti favorevoli e i punti sfavorevoli del convenzionamento con il terzo pagante, sia esso fondo integrativo, assicurazione o quant'altro. Il tutto ovviamente però ci porta, e anticipo già quanto troverete nel nostro approfondimento, ha una considerazione importante. La scelta del convenzionarsi o meno deve essere presa dal punto di vista economico solamente attraverso l'implementazione e l'utilizzo di informazioni che solo uno strumento come la contabilità gestionale o analitica di studio ci può dare. Il rischio infatti è che senza queste informazioni l'odontoiatra effettui delle scelte in mondo non consapevole con dei grossi rischi dal punto di vista di ritorni economici e di riduzione di redditività. Concludiamo poi il nostro approfondimento con una serie di considerazioni su cui a nostro parere l'odontoiatra che valuta, che è in fase di valutazione se appunto convenzionarsi o meno, deve focalizzare la propria attenzione. Lo ribadiamo per effettuare una scelta in piena consapevolezza e non alla cieca. Buona lettura pertanto a tutti e buon inizio d'anno. Grazie a tutti.